Come ormai consuetudine, il sipario del Teatro Scarpetta di Sala Consilina si apre all'inizio del nuovo anno sulla grande musica offerta gratuitamente a tutti i cittadini valdianesi. Grazie alla sinergia tra la Banca del Cilento di Sassano e del Vallo di Diana e della Lucania, la Fondazione Grande Lucania e l'amministrazione comunale di Sala Consilina, sarà quindi possibile festeggiare anche l'inizio del 2019 in teatro. Al pubblico valdianese sarà offerta un'altra serata all'insegna della grande musica con interpreti d'eccezione. Welcome 2019, il titolo beneaugurante del concetto. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti e per questo è necessario ritirare i biglietti numerati disponibili presso la sede del comune di Sala Consilina, al terzo piano, presso l'ufficio segreteria del sindaco D'Angelo Pucciarelli. Per i soci e i clienti della Banca del Cilento i biglietti sono disponibili anche presso la filiale di Sala Consilina Centro in via Matteotti. Per noi è un motivo di grandissima soddisfazione insieme agli altri spettacoli che sono stati organizzati in collaborazione con il comune di Sala Consilina che si faccia questo evento il 4 gennaio. Sicuramente è uno spettacolo di altissimo profilo, di alta qualità come sono stati quelli degli anni precedenti, quindi invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare, ricordo che l'entrata è gratuita. Anche quest'anno la Banca del Cilento di Sassano, Vallodidiano e Lucania vuole dare gli auguri del nuovo anno 2019 ai soci e ai clienti della Banca, non solo ma anche a tutto il popolo valdialese, omaggiandoli con questo bellissimo spettacolo messo in piedi dalla Fondazione Grande Lucania che come sappiamo è il braccio operativo della Banca, anche se le banche di credito cooperativo stanno attraversando un periodo di cambiamento, vogliamo tenere sempre alti e presenti quelli che sono i valori che caratterizzano una banca di credito cooperativo fin dalle origini. Abbiamo la tradizione del concerto che quest'anno cade in occasione del 4 gennaio, è un'occasione importante soprattutto perché la musica è una musica soprattutto di un livello culturale importante e entra nel teatro Mario Scarpetta. La musica si dice che annulla o comunque riduce le distanze tra l'umano e il divino e quindi insomma è propiziatrice di prosperità. Affidiamo a questo grande concerto e al brindisi finale che è la Banca del Cilento, della Fondazione offrono a tutti quanti gli amici di sala, affidiamo l'augurio per un anno nuovo che sia decisamente migliore di quello che si è concluso nelle ultime ore. Quindi venite, vi aspettiamo.